Atreus, perché sei sicuro che Sindri sia qui? È dove lui e Broxy sono riuniti. Riforgiare qualcosa che si era rotto. Sarà qui. Sindri, io sono addolorato. No, non ti voglio ascoltare. Tu non sai cosa sia il dolore. Non lasceremo che Odino la faccia franca. Quell'Odino che tu hai fatto entrare in casa mia... Ci ha fregato tutti. Ma qualcuno è rimasto più fregato di altri, non è vero? Io ti ho dato tutto. La mia casa. La mia amicizia. Il mio lavoro. I miei segreti. I miei tesori. E tu continuavi a prendere. E ora che cosa mi rimane? Nemmeno la mia famiglia. Parlavi di dolore. Ecco come provare dolore. Io... Noi possiamo... Noi? Ma quale noi? Esisti solo tu. Costi quel che costi. Quello che puoi fare... è sparire dalla mia cazzo di vista! Vieni, Atreus. Lascialo stare. Ti lasciamo al tuo dolore. Io credevo fossimo parte della famiglia. Ed era così. Non c'è un modo di sistemare le cose, vero? No. Ma so che mi sentirò meglio quando consegneremo Odino alla giustizia. Giustizia? Non è la giustizia che cerchiamo. È la vendetta. Ogni strada che percorro... ...mi riporta alla vendetta. Forse non ci rimane altro. Torniamo da Freya. Quando torneremo... ...noi... ...andremo veramente in guerra. Siamo giunti a questa. Sì. Quando eravamo a Svartalfeim... ...in cerca di Tyr... ...non è questo che volevo. O che intendevo. Non se significava perdere Brock. Sì, Atreus. Lo sappiamo. Abbiamo davvero portato via tutto, Sindri? Non badare troppo a ciò che viene detto nel lutto, Atreus. Anche se sembra giusto.